A Ragusa si ripropone la piaga dei furti in abitazione. Prima era stato il centro storico ad essere preso di mira, adesso i fenomeni criminali si sono spostati in periferia, ad essere colpita maggiormente la zona che sta a ridosso del nuovo ospedale Giovanni Paolo II. C'è tanta preoccupazione tra i residenti per la sistematicità con cui avvengono i tali fenomeni, tali da richiedere l'aiuto delle forze dell'ordine e il supporto delle forze politiche in campo. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni residenti in zona Via Ramelli, vicino all'ospedale Nuovo, che riguardano dei tentativi di furti in abitazione. Siamo molto preoccupati perché la percezione di sicurezza della nostra comunità continua a calare. Lo dichiara Livio Tumino, vicepresidente del Laboratorio Politico 2.0, che aggiunge Già nel centro storico della città si sono verificati degli episodi delinquenziali, come quello del negozio incendiato in Via Roma, e ora anche nelle periferie si registrano casi spiacevoli. Ciò influisce sulla sensazione di serenità dei cittadini, che temono il verificarsi di fatti gravi. Chiediamo ai vertici delle forze dell'ordine di intervenire, intensificando i controlli anche in quelle zone. Sarà necessario, quanto prima e conclude Tumino, anche un nuovo piano di sicurezza urbana, che potenzi la videosorveglianza al centro, come nelle periferie e nelle contrade.